Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Michelle Lunsicher è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica e questa volta per un ritorno che nessuno si sarebbe mai aspettato Michelle Lunsicher ritorna.Dalla rottura con Tommaso Trussardi, Michelle Lunsicher ha conquistato tutte le copertine dei settimanali italiani Tutti curiosi di scoprire come vada la sua vita sentimentale, se sia davvero finita con Trussardi e se ora stia con Giovanni Angioini Ci sono alcuni dettagli, però, che i media stanno trascurando e che dovrebbero tenere in maggiore considerazione Un incredibile ritorno, infatti, sembra ormai essere certo.Michelle Lunsicher, sempre al centro dell'attenzione dei media Negli ultimi tempi, Michelle Lunsicher è sempre al centro dell'attenzione mediatica La conduttrice ha interrotto da qualche mese il suo matrimonio con il padron di casa Trussardi, Tommaso, che le ha dato due figlie, Sole e Celeste Dopo la separazione, hanno iniziato a susseguirsi gossip dopo gossip che la volevano in compagnia del dottore ed ex geffino Giovanni Angiolini Michelle Lunsicher e Giovanni Angiolini.Michelle Lunsicher e Giovanni Angiolini, Letto Quotidiano I.Poi è arrivato il bacio inaspettato a Michelle Impossible con Eros Ramazzotti Ed è proprio lì che, sembra ormai certo, Michelle sarebbe tornata, perché si torna sempre dove si è stati bene I media stavano trascurando questo dettaglio, ma devono rendersi conto che Michelle non è solo gossip La donna è una vera e propria professionista in grado di lasciare il segno qualunque cosa faccia Il ritorno della conduttrice.Un dettaglio che i media trascurano è quello relativo alla vita professionale di Michelle La donna è una vera e propria bomba da palcoscenico, è molto richiesta e fa sempre il boom di ascolti Questo i vertici media set lo sanno bene ed è per questo che l'hanno richiamata per la conduzione del TG satirico di Canale 5, striscia la notizia E come dimenticare il ruolo affidatole in prima serata, al timone del suo primo one-woman show conosciuto ormai da tutti, Michelle Impossible Michelle Lunsicher.Ed è proprio nella veste di conduttrice di questo programma che dobbiamo aspettarci un suo ritorno Sembra ormai certo, infatti, che la donna tornerà con la seconda edizione dello show Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma sembra evidente che con la seconda stagione verranno aumentate il numero delle puntate L'inizio delle registrazioni sarebbe fissato per il prossimo autunno E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere Michelle nelle vesti di conduttrice di Michelle Impossible, per la seconda volta? Fatecelo sapere Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao